E siamo alla pallavolo femminile dopo gli anticipi della penultima giornata. Resta viva la lotta per i play-off e per evitare la retrocessione. Preoccupa invece l'infortunio corso alla palleggiatrice di Milano e della nazionale Alessia Orro. Ma sentiamo Marco Fantasia. Tanti verdetti restano da emettere dopo gli anticipi della penultima giornata di regular season. In zona play-off Pinerolo non riesce a ottenere il punto decisivo per la qualificazione sul campo della capolista Conegliano che non perde il ritmo in vista del ritorno della semifinale di Champions di giovedì in Turchia. Finisce 3-0 per le Pantere con Robinson MVP. In attesa del match di oggi di Scandicci sale al secondo posto Milano che supera Firenze in una partita che vede però l'infortunio dell'alzatrice della nazionale Alessia Orro. Escluse fratture per lei oggi verranno effettuati ulteriori accertamenti per verificare lo stato dei legamenti della sua caviglia. Anche le milanesi in settimana giocheranno la semifinale di Champions a Istanbul nella stessa partita infortunio anche per l'alzatrice di Firenze Battistoni. Nella corsa play-off si inserisce di prepotenza Casal Maggiore che poche settimane fa era nei guai in fondo alla classifica. Battuta Vallefoglia nello scontro diretto le Lombarde provano a disturbare il terzetto che comprende le stesse marchigiane Pinerolo e Roma lontane tre punti. Le Romane giocheranno oggi contro Scandicci poi resterà un solo turno di regular season. In coda Busso Arsizio si fa superare dalla già retrocessa Trento e manca il match point salvezza. La seconda retrocessione dovrebbe comunque scaturire dal testa a testa a distanza Bergamo Cuneo.